Grazie per il bitmello E' troppa nicotina così bruci la resistenza Alexa metti la lambada Alexa stop! Ma ti banno e' rotto il cazzo! Hai capito? Ma che non sapete voi? Sta scritto qua Dovrai inserire all'interno di una boccetta 60 ml Un busto della 10 ml di nicotina E 30 di glicerina Non me l'ampeteca!